Ciao ragazzi, nel video di oggi vi mostrerò come abilitare la composizione T9 su iPhone. Con il nuovo aggiornamento di iOS, ora puoi utilizzare la composizione T9 sul tuo iPhone. Vi spiegherò come funziona. La prima cosa da fare è andare nelle impostazioni e scorrere verso il basso fino a generale. Successivamente, clicca su Aggiornamento software e aggiorna il dispositivo iOS 18 e ho l'ultima versione disponibile. Ora puoi aprire l'app telefono e cliccare su tastierino numerico. Invece di digitare il numero di una persona, puoi semplicemente usare le lettere sotto i numeri. Ad esempio, se voglio cercare un contatto con la lettera NA, devo premere il tasto 2 per NA, il tasto 3 per D, il tasto 3 per D, il tasto 6 per NO, il tasto 9 per DY e il tasto 3 per NE. Come vedete, il numero della persona appare sotto. Inoltre, vedrete anche i contatti correlati sotto il numero. Se voglio chiamare quella persona, basta cliccare sul numero e verrà automaticamente selezionato. Ora puoi chiamarli direttamente da lì. È molto semplice e diretto. Se questo video ti è stato utile, metti mi piace e iscriviti al mio canale per altri video interessanti come questo. Grazie per aver guardato! Grazie per aver guardato!